È una questione che ormai sta montando e che ha suscitato sconcerto nella comunità non solo religiosa che frequenta il santuario di Santa Maria del Sasso. Questa mattina il Vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, si è recato presso il santuario nel comune di Bibbiena per una visita privata alla comunità religiosa domenicana. Il Vescovo, che segue con attenzione nel dialogo e nel rispetto dell'autonomia dell'ordine domenicano la vicenda del trasferimento dei padri Giuseppe e Giovanni Serrotti, ha voluto così esprimere un segno di presenza ai due fratelli per confermare loro personalmente i sentimenti di stima e gratitudine suoi e dell'intera comunità cristiana retina per i lunghi decenni di generoso e fecondo apostolato che hanno svolto nella nostra comunità. Sentimenti del resto testimoniati anche dai molteplici attestati di vicinanza e simpatia che giungono in questi giorni all'indirizzo dei due padri. Il Vescovo ha desiderato concludere la sua visita con un momento di preghiera recitando l'Angelus con i padri Giuseppe e Giovanni Serrotti e con gli altri religiosi della comunità all'interno del santuario di Santa Maria del Sasso.